Italia-Germania 1982, sicuramente era molto più iconica quella vittoria lì che quella del 2006, capito? Anche perché l'Italia uscì da un periodo di conflitti sociali, di conflitti politici e quindi il calcio veramente fu un'unione, capito? Non fu... fu veramente storica quell'impresa, capito? Dell'Italia che fu iconica, iconica, passò alla storia, ok? Qualcosa di ripetibile, la famosa partita di carte. E diciamo, faccio questo video perché sono i 40 anni di Pertini e Berzot nell'aereo dell'Italia, no? Quindi ecco, questo è quanto, è una vittoria iconica che ha lasciato un imprinting, anche perché fu la prima volta che i campionati di calcio si vedevano in televisione a colori e quindi fu veramente un'impresa storica degli azzurri, degli azzurri, solo che le azzurri hanno preso 5 pere e gli azzurri, niente, si difendono come possono, ma il calcio ormai non lo segue più nessuno, ok? Guardavo il calcio mercato, Delicte va via, cioè tutti i campioni vanno via e l'Italia rimane un'italietta.